Mondo Fitness 2014, 12 settembre. Giornata benefica per un evento molto importante per l'acquisto di una mocca per i bambini che hanno una malattia molto rara, una patologia delle osse. Perciò verrà donata al Policlinico Umberto I. Mi trovo qui insieme a D'Ambra Calvani dell'Associazione Ollus Cesar. Buonasera a voi. Allora, Ambra, parlaci di questa giornata a favore di questo evento importante per un tema così delicato e sociale. È una giornata molto importante a cui abbiamo voluto partecipare sin dall'inizio, quindi anche nella fase organizzativa, cercando di sensibilizzare più persone possibili perché sia in questo caso che in altri casi penso che ognuno di noi debba muovere un po' con la propria coscienza. Perché a qualsiasi figlio nostro potrebbe capitare questo e l'indifferenza è la cosa peggiore che si potrebbe ricevere in questo caso. Quindi siamo qui a partecipare attivamente a questa giornata bellissima e organizzata anche molto bene per raggiungere la somma che servirà a comprare il macchinario Mock. Ecco, perciò ce la state mettendo tutto, tutta ce la state mettendo. Abbiamo sentito anche il Presidente Cesar, che è tuo marito, dell'associazione. Vogliamo ricordare, avete il sito in costruzione? Abbiamo il sito in costruzione, come è tutta l'associazione, www.cesarollus.com. Seguiteci e vedrete che faremo non solo questa ma tante altre iniziative sia in Italia che nel mondo. Noi ti ringraziamo per l'impegno e diamo una speranza a chi non ce l'ha. Certamente, siamo sempre vicini a chi ne ha più bisogno. Ti ringrazio e complimenti soprattutto per l'impegno. Grazie a voi.